Quello che qualche giorno fa nel parcheggio dell'ormai Ex Unilever di Pozzilli era solo un auspicio dei lavoratori e dei sindacati in attesa, ora è diventata una decisione formale. Si andrà a Roma a chiedere al Ministero del Made in Italy e, direttamente a Invitalia, le ragioni dell'allungamento dei tempi per l'ok al piano di riconversione industriale, step necessario per lo sblocco dei 100 milioni di finanziamento. La richiesta d'incontro, maturata nel corso della riunione con i sindacati e con una delegazione dei lavoratori tenutasi ieri pomeriggio in Regione, inoltrata a mezzo PEC dall'assessore regionale alle attività produttive Andrea Di Lucente, tra i destinatari della missiva, oltre a Invitalia, nello specifico il suo presidente Rocco Sabelli. Proprio all'indirizzo dell'alto dirigente pubblico agnonese, già da tempo i sindacati non lesinano stoccate. Carlo Scarati, segretario di Wiltec Molise. Io avrei chiesto in questo momento al nostro corregionale Rocco Sabelli, che è il presidente di Invitalia, magari un'attenzione più serrata su questa problematica perché diventa importante per la nostra realtà regionale, ma soprattutto quest'area che è già pagato un grosso dazio, non solo un insediamento che darebbe continuità a quelli che stanno lavorando, ma ricordatevi che questo è un insediamento che farà assunzioni. Oltre ai 60 già assunti, Scarati fa riferimento a nuovi addetti in seconda battuta, con la possibilità di arrivare al raddoppio della forza lavoro nel nuovo stabilimento di Pozzilli, ora, ahimè, solo sulla carta. Novità importanti potrebbero arrivare dal tavolo a Roma. Al momento, sulla P2P, la parola decisiva non è stata ancora scritta.